Il Consiglio regionale ha approvato una legge che prevede il trasferimento del personale dell'autorità portuale regionale nel ruolo unico regionale, garantendo così la piena funzionalità dell'ente dipendente della Regione. La legge è stata approvata con 23 voti favorevoli da parte di PD, Italia Viva e Lega, due voti contrari del Movimento 5 Stelle e cinque voti di astensione da parte di Fratelli d'Italia. Ha approvato inoltre un ordine del giorno del PD per valutare la possibilità di estendere questo modello ad altri enti regionali. Il contributo annuale per il funzionamento dell'autorità sarà ridotto nella misura corrispondente ai costi del personale trasferito. Questo atto di modifica della legge istitutiva dell'autorità portuale regionale ha l'obiettivo di assicurare efficienza ed efficacia nella gestione dei porti di Viareggio, Giglio, Porto Santo Stefano e Marina di Campo. Una legge significativa che va a rafforzare il ruolo dell'autorità portuale regionale e lo fa soprattutto valorizzando le risorse umane di quest'ultima. La scelta del Consiglio regionale è stata quella di trasferire il personale attualmente in dotazione dell'autorità portuale regionale al ruolo generale della Regione Toscana, con tutti gli adempimenti conseguenti che da questo derivano, compreso il trasferimento del fondo del salario accessorio dall'autorità portuale regionale a quello della Regione Toscana. Si tratta quindi di un atto importante che vuole modificare l'attuale assetto del personale dell'autorità portuale, fatto essenzialmente da dipendenti propri e da soggetti in distacco o in comando da parte di altri enti, con personale che direttamente è riconducibile alla Regione Toscana. Un'altra significativa modifica che con questa legge si fa alla struttura dell'autorità portuale è il riconoscimento del ruolo del suo segretario generale, che viene individuato quale organo dell'autorità portuale e anche quale rappresentante legale della stessa. Il gruppo della Lega, in modo coerente con quello che ha sempre sostenuto, ha votato positivamente l'atto che riguarda il personale dell'autorità portuale e la figura del segretario dell'autorità portuale, che è particolarmente importante, ma allo stesso modo abbiamo colto l'occasione per evidenziare alcuni elementi di contraddizione. Il primo è che a fronte di un voto importante, che raccoglie anche il voto positivo della Lega, su un atto come quello che abbiamo discusso oggi in Consiglio regionale, abbiamo un'autorità portuale che è ancora in fase di stallo, perché ha un commissario che ancora non è segretario e questo succede perché continua a essere in atto una contrapposizione fra la Regione Toscana guidata dal PD e il Comune di Viareggio guidato dalla EXPD. E, peraltro, all'orizzonte non ci sono buone notizie, perché c'è un contenzioso pendente, perché se ne parlerà casomai a metà di gennaio, e quindi questo ci sembra un elemento di contraddizione. Ulteriormente contraddittorio, permettetemi la battuta, alla luce del fatto che da pochi giorni la Regione Toscana e il Comune di Viareggio hanno siglato un protocollo d'intesa che ha riguardato in larga parte il porto di Viareggio, ma che all'attenzione delle carte ha evidenziato da una parte il fatto che entrambi gli enti riconoscono nell'autorità portuale un punto di riferimento centrale, cosa che noi condividiamo, l'abbiamo sempre condiviso, ma che va in contraddizione con quello che ha sempre detto il sindaco di Viareggio, almeno negli ultimi due anni, e cioè che l'autorità portuale in realtà andava probabilmente dismessa. E quindi prendiamo atto che il sindaco di Viareggio ha cambiato opinione. Siamo contenti perché non la pensavamo come lui. Dall'altra, in merito a una infrastruttura estremamente importante come è l'asse di penetrazione, e beh, dalle carte del protocollo mi pare di capire che l'intesa c'è, ma si fa molto riferimento a tutte le normative, anche ambientali, anche urbanistiche, che debbano essere rispettate e che quindi, secondo me, qualche dubbio sull'effettiva realizzazione a breve di quella infrastruttura, malgrado la propaganda portata avanti dal Comune di Viareggio e dall'amministrazione di Viareggio, Lapone. E questo lo dico con dispiacere perché noi della Lega siamo sempre stati a favore dell'asse di penetrazione a sud dello stadio e quindi auspicavamo e auspichiamo che sia realizzato, magari anche meglio di come l'amministrazione di Viareggio pensa di farlo, e cioè con un passaggio completo delle autoretture e del traffico in modo da, come dire, liberare il centro cittadino e non esclusivamente per le imbarcazioni come la recente delibera del Comune di Viareggio. Però, al di là di questa particolarità, prendiamo atto che il percorso probabilmente è ancora lungo. Mi auguro di sbagliare, perché il nostro intento è che si realizzi una sinergia nell'interesse dei cittadini, delle imprese, delle attività che insistono al porto, dell'intera comunità portuale, fra le amministrazioni come dovrebbe essere, ma purtroppo le contraddizioni in qualche modo emergono lo stesso. Allora, la proposta di legge di oggi non sconvolge il ruolo dell'autorità portuale, motivo per cui non aveva senso da parte nostra votare contro, perché noi crediamo nel ruolo e nel lavoro e facciamo i complimenti a chi fino ad oggi ha gestito questa autorità. Non abbiamo votato a favore perché c'è un passaggio che non ci convince, che è quello che va a trasformare la figura del segretario generale in un ente interno all'autorità portuale. Siccome il segretario generale è una figura che continua a mantenere un rapporto di lavoro con l'autorità portuale, che a nostro modo di vedere è molto simile a un rapporto di lavoro subordinato, ci lascia il dubbio una figura che al tempo stesso sia ente dell'autorità, ma continui a svolgere un lavoro da subordinato. È una singolarità, in nessun'altra autorità simile avviene una roba del genere. Nelle autorità portuali nazionali addirittura c'è la doppia figura. Esiste la figura del presidente dell'autorità che è organo, ente dell'autorità e c'è la figura del segretario generale che è un lavoratore esterno. Quindi la Toscana fa una singolarità, ci convince poco, ma siccome ci è stato spiegato che la proposta di legge serve a snellire le procedure dell'autorità portuale, a favorire l'implementazione della pianta organica, l'assunzione di nuovi lavoratori, il trasporto di lavoratori da una parte all'altra e quindi rendere tutto più efficiente e dinamico, non ci siamo sentiti di votare contrari. Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità un atto presentato da Irene Galletti del Movimento 5 Stelle e sottoscritto anche da PD Italia Viva Lega e Fratelli d'Italia. L'atto solleva la questione dell'indirizzo di residenza fittizio per le donne vittime di violenza al fine di tutelarne la sicurezza e impegna la Giunta ad attivarsi presso il Parlamento e la Conferenza Stato-Regioni per introdurre quanto prima una normativa nazionale al riguardo. La tutela e la difesa delle donne vittime di ogni forma di violenza è un tema che ogni giorno merita la nostra attenzione perché all'interno di quelle convenzioni e di quei protocolli che fanno sì che si possano tutelare le vittime è necessario fare attenzione a ogni singolo tassello e ce n'è uno che può essere messo in campo dalle amministrazioni con questo strumento amministrativo che è appunto la residenza fittizia che altro non è che un modo per permettere a queste persone di non essere identificate, localizzate da quelli che sono stati o che sono i loro aggressori. Per fare questo abbiamo chiesto che il Parlamento nazionale si adoperi perché riesca a fare una normativa a quadro che metta in condizione tutti i comuni di poter costituire appunto questo che è un indirizzo fittizio appunto non esistente ma che sia in grado comunque di essere utilizzato dalla vittima dalle donne per poter adempiere a tutte le pratiche amministrative e burocratiche che necessitano appunto di un indirizzo ma che non sia riconoscibile. Questo lo dobbiamo all'interno di questo percorso che anche la Regione Toscana ha fortemente voluto per cercare di far sì che la difesa delle donne, delle vittime sia sempre più efficace e più effettiva e questo deve avvenire a tutti i livelli istituzionali e soprattutto con la coesione di tutte le forze politiche perché questa è una battaglia di civiltà. In realtà è un atto proposto dalla collega Galletti del Movimento 5 Stelle che noi del Partito Democratico abbiamo ritenuto dover emendare e rafforzare nell'impegnativa ma abbiamo fatto di più perché abbiamo redatto un testo condiviso dove si dà una maggiore forza all'atto ovvero impegnare il Parlamento a legiferare a livello nazionale nell'istituire un indirizzo di residenza fittizio per le donne vittime di violenza che magari hanno trovato il coraggio di denunciare e che sono magari in case di fuso piuttosto che in altri luoghi protette però sappiamo che è facile ottenere gli indirizzi se andiamo in qualunque anagrafe per cui creare un indirizzo fittizio consente loro di avere una maggiore tutela una maggiore protezione e di essere più difficilmente rintracciabili per cui insomma sono anche soddisfatta perché ha trovato l'unanimità dell'intero Consiglio regionale ed è un altro piccolo passo un altro piccolo tassello nella rete di protezione appunto per le donne vittime di violenza siamo in un periodo in cui siamo particolarmente scossi da fatti brutali e sanguinosi che non si fermano però quelli di cui parliamo più spesso sono appunto i femminicidi che è l'estremità assoluta di quello che accade ci sono tante donne che subiscono quotidianamente violenza a tutti i livelli in più occasioni e quindi dar tutela anche a loro prima di arrivare ad una degenerazione del problema credo sia di assoluta importanza questa è un'esperienza che in alcune realtà della Toscana già esiste ho avuto modo di affrontare anche in maniera molto silenziosa diciamo dietro un'apparente normalità alcune situazioni simili anche nel territorio toscano sono delle esperienze diffuse che già esistono è evidente che le donne che subiscono la violenza devono avere tutta una serie di garanzie di tutele nel momento in cui vanno a denunciare una violenza subita anche una presunta violenza che potrebbe verificarsi e come tale hanno necessità di una copertura hanno necessità di un'abitazione che le consente di fare una vita anche in un anonimato ma in sicurezza e nel contempo ricordo anche anche iniziative che avevamo fatto in passato rispetto anche a delle opportunità di lavoro che si devono determinare non soltanto nella cooperazione sociale ma anche nel sistema pubblico quindi tutta una serie di misure che devono accompagnare quello che questa settimana ci stiamo dicendo ma che poi necessita di atti e misure concrete la 27esima edizione del Toscana Gospel Festival è stata presentata in conferenza stampa al Media Center Sassoli di Palazzo del Pegaso la rassegna musicale itinerante si aprirà il 15 dicembre a Montalcino e si chiuderà il 28 dicembre a Cortona quest'anno il Festival rende omaggio ad una delle personalità più importanti del Novecento il reverendo Martin Luther King che con la sua vita, le sue azioni e le sue parole ha cambiato profondamente la concezione di libertà e diritti civili Allora intanto 27 non è un traguardo banale dal 1996 che siamo in giro per la Toscana abbiamo portato oltre 3.000 artisti abbiamo fatto centinaia di concerti decine di migliaia di persone seguono quest'anno la 27esima edizione vede coinvolte 12 città della Toscana di tante province da Arezzo, Adagliana, Massacozzile Montalcino, Montepulciano, Cortona San Giovanni Valdarno Torrita di Siena sono tante piccole e grandi città che ci ospitano in bellissimi teatri e chiese la filosofia del nostro festival è sempre quella di portare gruppi dagli Stati Uniti quindi di favorire la conoscenza di questa profonda tradizione degli Stati Uniti che è la musica gospel afroamericana siamo contenti perché il sostegno della regione e del consulato degli Stati Uniti e di tante amministrazioni fa sì che ormai questo sia diventato il festival più importante sicuramente d'Italia ma probabilmente fra i più importanti d'Europa quest'anno abbiamo un qualcosa in più che ci lega proprio a questo spirito gospel americano, afroamericano che è la celebrazione dei 60 anni nel famoso discorso del Lincoln Memorial del reverendo Martin Luther King abbiamo deciso come tutti gli anni troviamo qualche spunto per legarci alla tradizione quest'anno ci sembrava importante questo è il famoso discorso di I have a dream che tanto ha significato e sta ancora significando per il mondo dei diritti civili dell'equaglianza della giustizia sociale quindi nel celebrare questo discorso di cui abbiamo mutuato il titolo anche per il nostro edizione del festival abbiamo anche attivato una collaborazione di cui siamo veramente orgogliosi con la fondazione King di Atlanta e avremo un messaggio della vedova del fratello di Edward di Martin Luther King erano due reverendi anche lui morto negli anni 60 e quindi questo ci rende particolarmente orgogliosi si consolida una relazione importante fra la Toscana e gli Stati Uniti d'America e soprattutto una iniziativa di valenza veramente internazionale che porta la Toscana e il Consiglio regionale a promuovere una iniziativa che si svolgerà nell'ambito dei comuni toscani 12 le tappe inizieremo da Montalcino e non solo ovviamente il Toscana Gospel Festival che si rinnova ormai la 27esima edizione e trova quest'anno anche l'onore di ospitare nel Palazzo del Consiglio regionale la console americana qui e questo per noi è un motivo di grande orgoglio e di grande soddisfazione un'iniziativa che ormai vitalizza il mese di dicembre in tante realtà che si avvicinano alle festività natalizie e anche una forma di promozione ovviamente di natura culturale ma soprattutto di relazione fra dei popoli che come sempre hanno dimostrato di essere dalla stessa parte della storia e questo per noi è un portante perché consueve da una relazione e il Consiglio regionale della Toscana oggi ospita questa conferenza stampa a dimostrazione di questo grande legame e il Consiglio regionale della Toscana